15 giorni dall'ultima partita ritorniamo in campo questa domenica contro Ancona. La formazione marchigiana è una squadra molto forte che ha saputo metterci in difficoltà nei due precedenti incontri e alla prima giornata di campionato in Supercoppa. È una squadra che ci ha messo in difficoltà sia col gioco spaglia canestro con un lungo come Quarisa ma soprattutto anche con il tiro da oltre l'arco con un giocatore come Centanni e Pozzetti. La squadra di Coach Cohen sta vivendo un ottimo momento di forma come dimostra l'ultimo risultato con cui ha chiuso il girone di andata con la vittoria netta contro Imola. Noi andiamo ad Ancona molto motivati per iniziare il girone di ritorno con il giusto passo. Grazie. Grazie.